Ciao, sono Marco Del Fiasco del team Audiolino e presentiamo la nostra prima board che si chiama Audiolino Brick, è una scheda dedicata al mondo dei makers che vogliono costruirsi pedali per chitarra, multi effetti e giocare comunque con il mondo dell'audio. Questa qua è Audiolino Brick, la nostra scheda, ha un ingresso audio stereo, un'uscita audio stereo e la possibilità di controllare tutti gli effetti e i loro parametri tramite USB MIDI o MIDI su una porta seriale TTL 3x3 o 5x. Per avere più effetti insieme posso collegare più schede in cascata e in questo caso l'audio passa in maniera digitale da una all'altra attraverso questi connettori. È possibile programmare tutti quanti i parametri degli effetti con un tool che diamo a disposizione su PC, posso configurare il mio effetto, andare in Dependit e una volta regolato i microparametri posso salvare la mia configurazione sulla board ed anche fare in modo che questa poi venga caricata al boot in maniera automatica.